La Ecolan ha inaugurato presso la piattaforma in località Ceratina a Lanciano la nuova divisione ricerca sul grafene, un altro passo verso il futuro sostenibile per la Ecolan che si conferma leader nella gestione innovativa e sostenibile dei rifiuti, ponendo l'Italia all'avanguardia nel campo delle nuove tecnologie e delle energie pulite, il presidente Massimo Regneri. Un obiettivo che abbiamo messo nel piano programma dell'anno scorso, quindi abbiamo realizzato quantomeno il laboratorio che prevede qui la sperimentazione della produzione di grafene dal materiale che raccogliamo, cioè dalla sostanza organica e quindi andremo a sperimentare a produrre grafene dalle varie tipologie di rifiuto. Il nostro obiettivo è quello di capire qual è l'elemento migliore a costi sopportabili per produrre grafene. Questo grafene ha innumerevoli utilizzi, noi in particolare vogliamo verificare sempre in laboratorio e poi a scala industriale la possibilità di utilizzare il grafene come acceleratore dei processi di gestione anaerobica all'interno del digestore, perché sembrerebbe che questo materiale, che è un conduttore importante, può accelerare i processi di gestione e quindi produrre più gas, più biometano. Il laboratorio sarà il fulcro della ricerca congiunta tra Ecolan e Igraner. L'amministratore delegato Andrea Di Filippo. In questa divisione oggi abbiamo presentato quella che è la nostra linea pilota per produrre grafene da rifiuti organici, quindi utilizzeremo biomassa soprattutto da reciclo di lavorazioni agricole e trasformeremo questo rifiuto a basso costo in un materiale così innovativo come il grafene. Lo faremo attraverso dei processi che abbiamo messo a punto già teoricamente, ma che qui eseguiremo proprio e praticamente per verificare tutte le condizioni. Ci sarà una prima fase ovviamente di selezione di questi rifiuti e poi un'ulteriore fase di lavorazione e di preparazione prima di passare a quelle che sono le fasi di processo di produzione e di estrazione del grafene. Oltre all'inaugurazione del laboratorio, l'evento è stato anche occasione per la consegna dei nuovi piccoli porter, veicoli ecologici, progettati per operare nei centri storici, finanziati dal consorzio Coreve. I mezzi sono stati consegnati ai comuni di Archi, Casalbordino, Monteodorisio, San Bitochietino, Torino di Sangro, Tornareccio e Villa Santa Maria. Saranno utilizzati per la raccolta e la gestione dei rifiuti in aree urbane caratterizzate da strade strette e difficilmente accessibili, migliorando l'efficienza dei servizi ambientali e riducendo l'impatto ambientale delle operazioni di raccolta.